Tante le novità del 2015 della Fiera del Torrone di Carpenidolo. Il successo, come ogni anno, si è potuto magicamente sentire dal calore dato dalla folla di innumerevoli passanti e dal profumo di dolci e di torrone che si è potuto respirare nell'aria. Ascoltiamo i nostri microfoni Angelo Marzocchi, presidente della Proloco di Carpenidolo. Buona giornata a tutti. Le novità di questa undicesima edizione della Fiera del Torrone a Carpenidolo sono innumerevoli. Spero di non dimenticare nulla. Siamo partiti stamattina con l'esibizione di 5 madonnari che si esibiscono per tutta la giornata facendo vedere la loro maestria, la loro arte. Nel pomeriggio avremo, come il consueto, i mercanti principianti, il mostramercato per i bambini dagli 8 ai 14 anni e poi sempre per le vie del nostro paese, il nostro bel paese, esibizioni di zampognari, artisti di strada e quant'altro. Uno spettacolo dietro l'altro che si concluderà alle ore 17 con l'arrivo della Santa Lucia, col suo asinello. Spettacolo che riproporremo anche il giorno di martedì, assieme anche a altre novità, ma che vi invito a venire sul posto per apprezzarle al meglio. Sì, è un'esperienza che vorremmo proporre quest'anno per la prima volta, visto il grande successo che è avuto quest'estate, è una manifestazione analoga, quindi concluderemo la serata di martedì con uno spettacolo tutto sul fuoco, sulle acrobazie, sulle gioccolerie e deve essere veramente molto molto particolare. I nostri due prodotti principi della manifestazione, vale a dire il malfatto deco e la torta secca deco, che possiamo mangiare in degustazione al ristorante oppure comprare, portarlo a casa e assaporarlo magari insieme ai amici e parenti. Grazie. Grazie.